La fusione con il Landolfi è solo all'inizio. Per il direttore generale del Moscati, Angelo Percopo, quello di stamattina è stato solo un primo incontro per conoscere il personale e per ribadire che l'operazione funzionerà solo se entrambi i nosocomi cresceranno insieme. Nella prima fase, spiega il manager, l'assetto resterà quello attuale, poi verrà redatto un cronoprogramma di interventi. Entrando in un DEA di secondo livello, il Landolfi ha bisogno di una serie di adeguamenti infrastrutturali e di miglioramenti qualitativi. Ma da oggi cambia che inizia un percorso nuovo che ci vede noi del Moscati e gli operatori dei Solofra insieme per elevare e aumentare la capacità di risposta per l'utenza perché la vera sfida è questa. Questa provincia oggi ha la possibilità di avere da questa fusione una risposta più alta per alcuni tipi di patologie insieme alla risposta che già si sta dando in Alta Irpinia. Quindi è quello di completare il quadro delle prestazioni sul nostro territorio. Ovviamente il Moscati insieme al Solofra aumenterà anche la capacità di attrazione che già ha. In effetti noi abbiamo molte persone che vengono da fuori provincia, molte persone che vengono da fuori regione. Questo aumenterà la capacità di risposta e mi auguro che sia una cosa che sarà portata a compimento con il massimo risultato. C'è molto da fare, che tempi si dà per completare questo percorso? Diciamo che c'è una prima fase che l'importo destinato a questo ospedale che non dipende ancora da noi ma dalla regione con la quale stiamo discutendo. Dal momento in cui ci viene riconosciuto l'importo destinato all'ospedale credo che in un anno e mezzo riusciremo a portare quasi a regime il nostro progetto. Percopo poi chiarisce anche in merito alle polemiche sull'assenza dell'Asla all'appuntamento di questa mattina. È stato un equivoco, chiarisce, con l'Asla e la Morgante e continueremo a collaborare proficuamente. Dottore, come mai l'Asla non è stata invitata e come sono i rapporti? Ma io l'ho detto in conferenza stampa, credo che su questo ci sia stato un grosso equivoco. Diciamo che la giornata di oggi, così come la giornata di mercoledì per la dottoressa Morgante, è stato un primo impatto per chi lascia e per chi subentra. Quindi è stato un momento un po' più intimo, diciamo. Siccome non è finito il rapporto con l'Asla per questa annessione, che nonostante le difficoltà, io ho ringraziato pubblicamente l'Asla per la collaborazione, avrà ancora dei momenti operativi. A compimento del quale sarà, così come abbiamo iniziato, faremo una conferenza stampa congiunta per ufficializzare del tutto.